grandi sono nominati dal sindaco assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio quindi nei comuni grandi questi assessori possono non essere eletti quindi non essere consiglieri ma devono essere cittadini quindi avere la cittadinanza italiana con i requisiti di candidabilità elegibilità e compatibilità cioè avrebbero potuto fare i consiglieri ma non lo hanno fatto o perché non sono stati eletti quindi posso nominare sindaco scusatemi posso nominare assessore un consigliere che non è stato eletto ma che si è candidato oppure che non si è proprio candidato semplicemente perché è bravo a fare quella cosa secondo il sindaco nei comuni piccoli con popolazione inferiore a 15 mila abitanti lo statuto riserva di statuto può prevedere la nomina d'assessore di cittadini non facendo parte del consiglio altrimenti devi nominare assessore un consigliere quindi sopra i 15 mila non serve lo statuto lo puoi fare tranquillamente sotto i 15 mila è lo statuto che ti deve consentire di nominare uno o più assessori che non fanno parte del consiglio poi ci sono una serie di norme transitorie che non ci interessano torniamo alla giunta il sindaco nomina gli assessori li sceglie nel consiglio fuori dal consiglio l'abbiamo visto sceglie un vice sindaco pari opportunità numero massimo stabilito dallo statuto la giunta collabora con il sindaco ricordatevi quando studiate il diritto amministrativo il diritto degli enti locali due grandi concetti l'organizzazione quindi come è composto un organo e cosa fa la competenza organizzazione e competenza io aggiungo sempre anche procedimento cioè come si fa a fare le cose sono le tre componenti di tutto il diritto amministrativo tutto il diritto amministrativo ruota intorno a queste tre componenti che si parli del consiglio che si parli della giunta che si parli del sindaco dei dirigenti del segretario o di qualunque altro tema la giunta e veniamo alle competenze collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali la giunta è un organo collegiale gli assessori non sono organi del comune l'assessore non è organo del comune è membro della giunta che è organo del comune anche se vedremo l'assessore viene richiamato in alcune disposizioni con alcune funzioni particolari ma parla attraverso le delibere non al di fuori delle delibere nei comuni piccoli con popolazione fino a 15 mila abitanti le riunioni della giunta si tengono preferibilmente la sera il sabato la domenica quando non si lavora perché perché nei comuni piccoli gli assessori prendono un'indenità molto ridotta non è uno stipendio che gli consente di arrivare a fine mese quindi normalmente hanno un altro lavoro quindi lavorano e meglio se gli convochi la giunta la sera o il sabato o la domenica o anche un giorno fisso in modo tale che poi si organizzano con i propri datori di lavoro la giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento questa competenza si chiama competenza residuale cosa significa che non è descritta al positivo quando abbiamo analizzato il consiglio abbiamo visto l'articolo 42 le competenze del consiglio un elenco a b c d e f eccetera quando abbiamo analizzato il sindaco abbiamo visto gli articoli 50 e 54 con le competenze del sindaco contingibili ed urgenti non contingibili ed urgenti bla 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 cosa succede il legislatore nell'individuare le competenze della giunta non fa un elenco ma dice con questa formula che tutto ciò che non trovate nell'articolo 42 e non trovate nell'articolo 50 e 54 per semplificarvi lo fa la giunta non serve che lo elenchi perché basta che lo troviate che non lo troviate nei due elenchi che ho detto la competenza residuale fa sì che le competenze della giunta siano tantissime tantissime è l'organo che produce più atti io amo fare questo esempio numerico ma prendetelo con le pinze ogni 10 atti del consiglio voi vi trovate 50 atti del sindaco e vi trovate 150 atti della giunta ok magari neanche 50 del sindaco ogni 10 del consiglio 25 del sindaco e 150 della giunta queste le proporzioni medie diciamo così degli atti proprio perché ha una competenza residuale quindi primo collabora col sindaco due competenza residuale tre collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio tre riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività perché il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo cosa significa che nel mezzo c'è la giunta e quindi la giunta attua gli indirizzi del consiglio vedete collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi riferisce annualmente al consiglio che controlla indirizzo e controllo la giunta nel mezzo terzo comma è altresì di competenza della giunta l'unico regolamento non di competenza consigliare il rous regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio e ovviamente nei limiti dello statuto e della legge abbiamo detto le competenze residuali è un concetto importantissimo che lo troviamo in tantissimi ambiti del diritto cioè il diritto rifiuta di fare tre elenchi se dobbiamo gestire un sistema complesso le competenze degli organi politici non possiamo fare tre elenchi perché altrimenti uno di questi elenchi comunque non comprenderebbe alcune cose ci dimenticheremo di alcune cose allora uno di questi elenchi la c è un elenco residuale è tutto ciò che non fa a e b trovate un esempio di questo genere nell'articolo 117 della costituzione l'articolo 117 per fare un'analogia l'articolo 117 mi dice le competenze esclusive statali un elenco lunghissimo di casi in cui la legge dello stato ha competenza legislativa secondo comma del 117 terzo comma del 117 competenza concorrente lo stato dette principi le regioni le norme d'attuazione quarto comma tutto ciò che non è dei due precedenti elenchi lo fanno le regioni competenza legislativa residuale delle regioni ed ecco un esempio di competenze in questo caso ho preso il comune di prato alla destra il sindaco sorridente alla sinistra quasi tutti gli assessori sorridenti e abbiamo l'assessore alla cultura alla cittadinanza l'assessore all'istruzione pubblica alle pari opportunità l'assessore alla città curata l'assessore al coordinamento monitoraggio dei finanziamenti l'assessore al bilancio lo sviluppo economico il vice sindaco e assessore alla salute e politiche sociali all'urbanistica l'ambiente vedete le deleghe le competenze variano attenzione variano da comune a comune ma anche all'interno dello stesso comune lo vedremo dal punto di vista dell'organizzazione tecnica dei dirigenti dei servizi non esiste un settore urbanistica ambiente o non necessariamente esiste cioè le competenze degli assessori possono essere trasversali un assessore può avere a riferimento due o più dirigenti così come un dirigente può avere a riferimento due o più assessori quindi non c'è normalmente un legame bionivoco fra le deleghe politiche che il sindaco dà agli assessori e l'organizzazione tecnica ma c'è un disegno trasversale a volte voluto proprio per creare diciamo sinergie fra i vari ambiti assessore servizi cittadini patrimonio e turismo assessore alla polizia municipale sicurezza urbana e mobilità curiosità 1 2 3 di genere maschile 3 di genere femminile nella prima pagina 3 di genere maschile uno di genere femminile nella seconda pagina quindi siamo poco più del 50 per cento di genere maschile ecco per farvi un esempio ho preso una degli assessori a caso il vice sindaco vedete le deleghe sono dettagliate politiche per la famiglia sanitarie servizi sociali diritti minori diversamente alibi eccetera eccetera queste sono le deleghe specifiche e le note biografiche del vice sindaco così come i contatti email relativi sempre dal sito del comune di prato ho preso la scheda relativa alle funzioni della giunta abbiamo detto la giunta ha una competenza residuale cioè non esiste un elenco legislativo delle competenze ma sui siti del comune troverete quelle che sono le principali competenze compie tutti gli atti rientranti eccetera eccetera